Upsa a tutti, miei cari Upsine Upsine, come state, come state, come state, come state? Spero bene, io ho avuto una difficoltà assurda per iniziare questo video, infatti non sono del tutto contento della luce di come lo vedete in video, o almeno adesso che inizierò non sarò contento. Comunque, cosa farò oggi? Oggi, 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 da bravo amico ti truccherò, però usando gli oggetti sbagliati, perciò sarà un'avventura per entrambi. Quindi, indassa un paio di colpi auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire. Io direi di iniziare subito con qualcosa. Un po' di primer, te lo sento così sul viso, così, sul viso. Prima questo lato, perfetto, e poi su questo lato, così, tu non farei nulla. Qua sul mento, perfetto, adesso fammi spalmare un po' con le mani. Perfetto, adesso passiamo subito al mondo di là. Lo metterò con questa bella spugnetta, perciò tu guardami. Perfetto, adesso facciamo subito. Perfetto, 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 perfetto. Ok, lo senti pesante? No, no, perfetto. Adesso con questa camicia qui, scusate i capelli, ti metterò un po' di correttore sotto gli occhi, sulla fronte, proprio così tu guarda verso l'alto, va bene? Non guardare, non guardare. Sulla fronte, e una volta visto lo spalmiamo un po' così con le dita. perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. 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 Per questa parte. Perciò, mi metto così. Così. faccio pure dall'altro lato perfetto fammi fare solo un attimino un po' di pul 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 come ti senti come ti senti come ti senti adesso ho questo oggettino questa bella 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 pallina che servirà per metterti un po' di blush le cuoce sui sigoli sopra la terra quindi comincio con vari piccoli 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 pul 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 pul, perfetto, perfetto, pul pul, ok, 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 mi sembra che stia procedendo tutto bene, tutto bene, adesso, adesso farò, dovrò metterti un po' di illuminante, perciò provo Quindi adesso è arrivato il momento di fissare tutto con la cipria, con questo, con questo bel pom pom rosa, fissiamo tutto, e pissa, 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 pure dall'altro lato stiamo fissando tutto, quindi fissando tutto, guarda il pom pom, guarda il movimento che fa il pom pom, adesso facciamo una cosa che io adoro, in realtà andrebbe fatta dopo, ma la faccio adesso, è arrivato il momento di mettergli un po' di fake wrinkles, un po' di per non farle vedere troppo, e poi si tampola, perfetto, adesso passiamo subito perché non abbiamo tempo da perdere, andiamo avanti, ho preso questa bella palette, spero si veda, per trovarti un trucco fantastico, perciò, allora, visto che siamo nel tema violetto, trovaccio prendo e... tu mi raccomando, tieni gli occhi chiuse, stai facendo tutto perfettamente sei bravissimo bravissimo adesso 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 è arrivato il momento di mettere lai 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 perciò tu mi raccomando chiudi l'occhio adesso e non muoverti perché è il momento cruciale visto io col bastoncino faccio così la codina e tiro giù faccio la codina e tiro giù faccio la codina e tiro giù adesso cosa manca cosa manca dobbiamo fare ancora le sopracciglia quindi faccio qui subito ho qui questo strumento perfetto per le sopracciglia tu guardami e io tiriamo verso l'alto adesso che tu abbia delle sopracciglia perfetto adesso dai che manca ancora poco poco dobbiamo mettere un po' del mascara del mascara del mascara del mascara quindi ho questo mascarone proprio perfetto con te uno scoporino gigantesco perfetto per te perfetto per te si tira verso l'alto e tac 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 di qua e tac 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 lo faccio qua adesso adesso abbiamo gli ultimi due passaggi quindi mettere una bella matita labbra matita labbra perciò posiziona posiziona le labbra così e non muoverti io faccio un po' di trucco 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 tapp 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 la e tapp tapp hai delle labbra davvero davvero belle ma ed adesso quindi cosa ci manca dil rosseto perciò scegli quale ti piace quale ti piace guarda quello che ti piace guarda il movimento che fa il movimento che fa così 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 si allontano ci sono più di che color lo facciamo viola vero? lo sappiamo perciò ti uno posiziona bene le labbra e quindi guardami un po' un po' di setting spray perfetto direi che adesso sei perfetto o perfetta quindi non mi resta che salutarti il conto è di 2540 euro ma non ti preoccupare poi magari anche a rate e nulla io ti saluto come sempre ti lascio il mio video precedente con la mia playlist e il tasto per iscriverti al mio canale e guardare qualsiasi video poi tu vorrai devo scappare che ho un altro cliente anche se sono tuo amico devo scappare e non ti faccio lo sconto perciò mi dispiace un bacio buonanotte 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 buonanotte